Mi piacerebbe insegnare il danza agli altri. Un sogno per tutti noi, che con tanto amore e tanto forza ci siamo riusciti a realizzare. Per decenni è stata la sede della scuola di disegno, arti e mestieri, dove futuri artigiani del territorio apprendevano dai loro maestri e si formavano. Ora però l'immobile di Via Piave a Camnago di Lentate sul Seveso si prepara per una nuova vita dopo la donazione del Presidente del Consiglio della Scuola, si chiamerà Casa di Stefano e sarà la sede di Progetto Oasi, l'associazione di Lentate che da 25 anni promuove sul territorio l'autonomia e l'inclusione di persone con disabilità. La casa sarà un luogo per allenare le nostre diverse abilità e per imparare a diventare grandi e autonomi sempre di più. Ma non sarà soltanto casa nostra, sarà la casa di tutte le persone che desiderano vivere l'inclusione come un momento, come uno stile di vita più che come un momento, perché inclusione, essere inclusivi vuol dire avere la capacità di aprire le porti a tutti e di imparare dalle diversità. Un sogno che diventerà realtà dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione necessari per renderlo uno spazio completamente accessibile, versatile ed efficiente sul piano energetico. Io ricordo quando ormai oltre un anno fa mi aveva presentato l'idea di iniziare a concretizzare l'idea del dopo di noi e adesso che si sta posando la prima pietra di questa ambiziosa idea, ambizioso progetto, siamo al suo fianco. Presso la fondazione della comunità Monza e Brianza è stato istituito un fondo apposito per permettere a chiunque di sostenere con una donazione proprio la ristrutturazione di casa di Stefano, perché i sogni di chi fa parte di Progetto Oasi sono tanti e profondi, sanno di amore per la vita e voglia di futuro. Volevamo mettere un gioco da tavolo, giusto? Sì, sì. E tipo un minacino. Visto che faccio l'animazione, aiutano tutti i bambini di tutto il mondo a giocare, a convivere. Mi piacerebbe tanto provare a essere responsabile di tutte le cose molto importanti per la mia malattia, vivendo da sola, riuscendo a ricordarmele da sola.